Che novità hai in edicola? I mondi di magia delle Winx! Gioca e divertiti con le tue amiche fatine! Ognuno ha il suo mondo magico! Vieni a scoprirli tutti! Chiudili e portali sempre con te! Il mondo di magia di Blu me lo trovi anche con il Magazine 152! Collezionali tutti!